ah porco di capilità ciao ragazzi allora sono andata a fare ah porco di angolo oggi non lo so sto non so se vi succede pure a voi mamma mia mi sento ingolfata mi sento grosse ah porco di ah porco di la madonna ma come mi sono vestita poi la maglia la giacca sopra la tuta cioè non si può guardare e in più cioè in più poi sono andata a fare a prendere le a parte che mi sento mezzo indondita c'era la stanchezza e tutto quanto sono andata a prendere e mangiare per luce ho detto di quanto mi sento grassa oggi la signora mi ha detto beh no dai beh no dai come ti dai non ti preoccupa ah porco di la house ma stai grassa veramente vabbè comunque sia sono andata a fare la spesa aerospin mamma mia sta tuta io compro da Sonia Loreti perché ha dei tessuti stupendi questa mi sembra guarda bruttissima niente perché le sono pagate proprio mo ma tra un po' la butterò allora ragazzi sono andata a aerospin a fare la spesa a porco di house voi sapete che noi mamma mia ci manco qua voi sapete che noi quando andiamo a fare la spesa non portiamo mai il carrello che è logico tanto dentro per una cosa e poi ne prendi 7-8 siccome non ce la facevo ho chiesto a un vigilantes un ragazzo di colore se poteva aiutarmi portava sta cavolo di cosa qua oh porco di ero un vigilantes perché quelli che portano la catenella vabbè quella là portano qua a un certo punto mi fa signora non è questo il mio lavoro cioè proprio cusci senza articoli senza prese senza predicati verbali senza aggettivi senza proprio signora questo non è il mio lavoro io sono guardato e ho detto scusa ma perché il tuo lavoro qual è ha solo mi ha detto io vigilante vabbè ho detto vabbè vigilante ma a me se una persona mi ha detto uau mi si è stuccata la busta me la porti alla cassa cioè qual è il problema io avrei detto no io sono una che fa la spesa non posso portare la busta ah porca dica la madonna non posso portarti la busta perché io sono entrata a fare la spesa quindi io sono un acquirente non sono una portandina cioè ma che vuol dire ma che vuol dire allora Allah mi ha detto quando mi ha sentito ah porca ho dei capelli down in nervosirmi ho fatto dei tilc e delle parole mi ha detto tu sei malata di mente tu non stai bene ma è tawa ragazzi io ho letteralmente bu ah porca di la madonna di questo c'è c'è voi sette cose di que per mano l'ho buttata per terra tutte e là ragazzi là è successo il putiferio perché ho poi glielo ho detto di ogni e la fine è che lui è che lui non perché io ho vinto perché a me non mi piace non mi interessa la vittoria perché la vittoria è degli stupidi uno dice ah sono vinte sono vinte però gli ho detto porcadio gli ho detto le cose e le persone che stavano vicino a me c'è tanta gente ah porcadio signor ti ragione perché c'è tanta gente che non ha il lavoro e non è un po' magnata a tanti padri di famiglia a tante persone tu mi sti dici io non è il mio lavoro ma vai affanculo scusate ma proprio mi se ne esce di cuore e alla fine io per quanto ne ho dette forse non era manco tanto assunto non era manco tanto assunto era assunto poco comunque a me mi si gonfia mi stingo a gonfia perché la stanchezza mi gonfia vabbè ci riprenderemo e alla fine come è finita che ha preso lo zainetto a scappate perché evidentemente ah porcadio la madonna qualcuno mi faccio cucire faccio vedere la scrima qualcuno di più soprendendente non lo so qualche persona che stava lì nei dintorni perché c'erano parecchi nel magazzino gli avrà detto forse mica ti mi vi perché forse non sei tanto in prova o non sei tanto assunto poi mi conoscono quelli del negozio di Erospi mi conoscono ed evidentemente sanno la mia no evidentemente sanno la mia condizione dire tu non stai bene di mente sei malata cioè no tu non stai bene di mente sei malata una cosa del genere no anche meno anche per niente perché tu stai in un posto di lavoro ti comporti come si deve non si dicono le parole e in più se ah forchè della madonna di chiesa se vuoi fare cioè portare una cosa per mano a una cassa non ti stai a scoglionare scusatemi ma proprio quando ci vuoi ci vuoi e cerchiamo di mantenere questi posti di lavoro ragazzi perché poi non diciamo non ci sta il lavoro non ci sta poi venite a portare fuori ce lo venite a piare a noi ma almeno comportetevi no perché io mi ricordo a me quando andiamo in America andiamo in altre parti a noi ci fanno sgomma dopo sei mesi se non c'hai la non so in America vabbè ma in Svizzera pure non è che è tanto facile cioè capito ci vogliono da prima di tutto da imparare la lingua se no per le grignioni quindi anche meno io non è mio lavoro anche no ciao a tutti